Qui a Maranello in particolare è un grandissimo onore essere qui oggi per celebrare la storia di Ferrari in una delle carriere più famose e più importanti del mondo. Non hanno cose anche dei nostri musei, qui a Maranello in particolare è un grandissimo onore essere qui oggi per celebrare la storia di Ferrari. Il taglio del nastro ai nostri ospiti, grazie. 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 di ingegnere, poi ha acquisito importanza, è diventata un mito, è cresciuta con tutte le berlinette che hanno avuto, è stata veramente una spinta e poterlo realizzare è veramente un privilegio per me, sentivamo che volevamo vincere, quindi quando è così tutti quanti danno qualcun massimo e tutto questo ha fatto sì, ha reso possibile tagliare il traguardo per primi davanti con un gruppo incredibile, perché questo è più di un individuo, è davvero un gruppo che vedete in red, in paddocka, c'è una specificità, questo è un sonore o un viso, è davvero una signatura, quando parliamo di sport, la categoria è molto scicolosa a tutti e Grazie a tutti.